Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi Bitcoin dà lezioni a tutta il mercato delle criptovalute, va giù con una super candela rossa e si trascina tutte le altcoin, anche pesanti ribassi per quanto riguarda Ethereum. Regina è indiscussa negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, grazie anche alla sua interdivendenza con la DeFi e al macello che si sta creando, ragazzi, per quanto riguarda le gas di Ethereum che sono diventate insostenibili. Chissà come si modificherà il tutto relativamente a questo discorso. Oggi però andiamo a cercare di capire che cosa sta succedendo questo crollo di Bitcoin, tra virgolette, quindi questo mini-dump di Bitcoin è un mini-dump che fa paura, che può portare ad un cambio di direzione nel breve e poi nel medio periodo del mercato delle cripto, sì o no? Andiamo a vedere questa doppia view, una su Bitcoin e l'altra su Ethereum, ragazzi, stra-importante, la vedremo alla fine del video e vi faccio capire come, in effetti, ancora una volta, la ciclica come un orologio svizzero ci ha dato dimostrazione della validità su questo mercato, di questo tipo di analisi. Allora, sono già davanti al grafico, come sempre, ancora una volta non sono in face, prima di andare però avanti, ragazzi, vi chiedo di fare un piccolo sforzo e di lasciarmi dei mi piace per questi video, in modo tale anche da aiutarmi con YouTube e così con le condivisioni per far girare il più possibile queste informazioni, per aiutare tantissimi, perché come sempre, quando ci sono delle fasi di down, è sempre possibile sbagliare a livello emotivo e moltissimi ne pagano poi le conseguenze. Quindi date queste informazioni a tutti, fatele girare, aiutatemi un po', quindi con questi mi piace e poi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Allora, guardate un po' questo grafico che abbiamo visto la scorsa settimana per quanto riguarda Bitcoin e questo è il grafico che stiamo seguendo. Iniziamo da qui, analisi ciclica, analisi tecnica, poi vi faccio vedere la grafico settimanale di Bitcoin e poi passiamo all'Ethereum per vedere la seconda view importantissima da guardare su Ethereum perché ancora una volta siamo andati a beccare, ragazzi, la resistenza perfettamente, quasi perfettamente, è mancato proprio qualche dollaro, ve lo faccio vedere tra un poco. Allora, resistenza a 12.100 di lungo periodo su Bitcoin, regge, regge ancora tantissimo, vedete come il mercato va su verso quel livello, non ce la fa e torna indietro. Però, ragazzi, questa cosa la sapevamo ed avevamo anche una scadenza che vi avevo indicato intorno alla prima decada di settembre. Alcuni, anche io stesso, ho detto forse, abbiamo anticipato qui, vedete, era un po' tanto, insomma, per un'anticipazione 25 o 27 di agosto, rispetto al 10 di settembre sembra anche eccessivamente presto, quindi prematuro. Però, ragazzi, così non è stato, infatti il mercato fa un candelone che spiazza un po' tutti, vedete, e in questa giornata si riporta ai suoi livelli di supporto intorno agli 11.100, poi precisamente non ha fatto 11.100, ma un minimo 11.180, ragazzi, ma siamo lì, come sapete, non ha alcuna differenza questi piccoli dollari su Bitcoin, e si è riportato a fare la chiusura e la scadenza ciclica, vedete, qui con i famosi 22 giorni. Ve li disegno così per farvi capire, vedete, questa ciclicità. Ed è stata, ragazzi, perfettamente corrispondente con quello che ci attendevamo, cioè con una fase di massimo nella prima parte del ciclo, un tentativo di rimbalzo andato non a buon fine, che va a confluire con un nuovo minimo o un minimo, in questo caso doppio, quindi un doppio minimo, se si ferma qui questo ribasso, non lo sappiamo, ma se domani dovesse continuare con questa fase di bassista e scendere qui dentro, lo potrebbe fare, purtroppo, ve lo dico tranquillamente, quindi anche scendere al di sotto dei 11.100, che probabilmente, se fa una cosa del genere, assisteremo a un flash crash di almeno 400-500 dollari, ragazzi, perché il mercato vede questi 11.100 come il suo livello di supporto di questa barra di congestione che vedete qui. Questa barra di congestione è vista con un livello di resistenza ed un livello di supporto, che è questo qui in basso, quindi se il mercato romperà il livello di supporto durante la giornata, potremmo assistere a dei flash crash e, perché no, andare a fare il nostro famoso minimo. Quindi, da un punto di vista di analisi tecnica, tutto perfettamente rispettato per quello che ci riguarda, la scadenza ciclica, la fase che avevamo in mente, il fatto che Bitcoin non abbia dato neanche un fake break della resistenza a 12.100, insomma, ragazzi, non ha fatto assolutamente nulla di strano, anche questo minimo, per quanto dispiace, anche io tentavo di dire, ok, forse ce la facciamo e rompiamo questa volta i 12.100, non ce la fa, però ragazzi, non sono, non perdiamo le speranze, perché se questa dovesse essere la chiusura dei nostri cicli, un nuovo ciclo avrà tutte le potenzialità di andare a rompere la resistenza nel mese di settembre. C'è però una solo neo su questa view, che vi faccio vedere alla fine del video, proprio su Ethereum, che è un neo che va assolutamente, va preso in considerazione, ragazzi. Intanto guardiamo anche il mio grafico settimanale, quello che vi fa capire, guardate un po', ancora una volta, l'importanza incredibile della famosa resistenza qui intorno ai 12.000, dove sta in questo momento Bitcoin, e il fatto che questa fase rialzista, ragazzi, debba essere veramente portata all'insù, cioè Bitcoin deve questa volta andare sopra questi livelli qui, ragazzi, perché altrimenti non va a configurare un'inversione di lungo periodo, e rimane nella sua lateralità, lateralità che ormai dura su questo mercato da circa due o tre anni, quindi non è poco, ragazzi, vedete, questo è l'andamento di trend. Il mercato, anche se qui fa un po' di resistenza, quindi fa un po' fatica, deve andare sopra in questa zona. Se non lo fa, ragazzi, resteremo in una barra di congestione, e poi ci riaggiorneremo per capire un po' il da farsi. Ma andiamo a vedere a questo punto quello che invece sta indicandoci Ethereum, perché è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione. Allora, Ethereum, ragazzi, in questo momento un po' forse la guida del mercato delle altcoin, per via del discorso DeFi, quindi grandissimi app. Vi ho disegnato dei cicli diversi su Ethereum, anche l'altra volta, se vi ricordate, sono gli stessi grafici che abbiamo visto nella scorsa settimana, ragazzi, andate a rivedere il video, casomai, ma vi avevo indicato come questa fascia poteva essere una fascia di resistenza e di arrivo di Ethereum in una sua fase di pump. Allora, si è fermato, guardate dove, al praticamente primo livello, intorno ai 500. Non è detto che sia finita qui, ma potrebbe essere finita qui per questa fase, ragazzi. Ve lo dico in maniera chiara perché? Perché se questa ciclicità che vi ho mostrato nei precedenti video e vi sto facendo rivedere oggi viene rispettata per quanto riguarda la regina delle cripto, probabilmente è stato fatto ieri il massimo di questo ciclo che vedete in questo momento. Quindi qui abbiamo fatto il massimo del ciclo. E da qui fino al mese di settembre, fine settembre, quindi primi di ottobre, non dovremmo avere nuovi massimi, ragazzi. Quindi questa è una notizia che va presa in considerazione. Ora, io questo ciclo di Ethereum l'ho posizionato differente appositamente rispetto a Bitcoin in maniera tale da avere dei punti di vista diversi, ragazzi. Delle possibilità differenti. È anche vero, ve lo dico in maniera molto semplice, che volendo potremmo indicare un ciclo fatto a tre in questo modo che sta chiudendo appunto proprio in questi giorni, come vi ho fatto vedere su Bitcoin. Quindi questa cosa e questa ipotesi che vi sto facendo vedere è un'ipotesi che noi dobbiamo considerare, ed è giusto considerarla, ragazzi. Però ricordatevi che o è vera quella di Ethereum, questa qui che stiamo vedendo, o è vera quella di Bitcoin. Quindi noi le consideriamo entrambi perché i bravi trader, i bravi investitori devono tenersi le spalle coperte da eventuali situazioni e cercare di capire dove stiamo andando. Il mercato poi prenderà una direzione, ma noi avendo la doppia view già chiara possiamo prendere poi automaticamente le nostre operazioni direttamente in maniera più veloce. Vi faccio vedere qual è il concetto. In pratica è come se da questo punto in poi iniziasse una specie di nuovo ciclo. Il precedente di Ethereum è stato, anche se noi lo tiriamo molto su rispetto a quello che è il precedente, quindi andiamo vicino diciamo ai 106, potremmo assistere anche a una cosa di questo tipo, ragazzi. Quindi questa fase così, magari un tentativo e poi la close. In ogni caso, probabilmente, la fase di massimo per questo ciclo è stata fatta. Se il mercato dovesse ampiamente superare su Ethereum i massimi che vedete qui, probabilmente siamo già in un nuovo ciclo, quindi dobbiamo riaggiornarci, avrà avuto ragione Bitcoin in quel caso, e da qui in poi si sale e basta. Altrimenti, mese di settembre un po' difficilotto per quanto riguarda le cripto, se prendiamo in considerazione il ciclo di Ethereum, mese invece più positivo se ha ragione il ciclo di Bitcoin, e da qui in poi parte una nuova fase. Questo quando lo sapremo? Nei prossimi giorni, già domani dopo domani, inizieremo a tirare le somme e a vedere quello che fa questo mercato. Attenzione quindi in questo momento a determinate posizioni long, perché siamo in una fase difficile, non è una fase che dovrebbe dare particolari difficoltà in termini di ribassi, quindi io non mi aspetto catastrofi ragazzi sul mercato cripto, però sicuramente è possibile, come vi ho spiegato, che anche il mercato altcoin abbia fatto dei massimi ciclici, e che magari necessiti di una settimanina, dieci giorni, per tirare un po' i rami in barca, rifiatare, e poi decidere un po' il da farsi, a meno che non tirino fuori qualche altra cosa dal sacco della DeFi che sta andando insomma per la maggiore. Va bene, allora per oggi è tutto, fatemi sapere invece voi cosa ne pensate, avete visto che precisione, quasi diciamo precisione ragazzi, questo massimo ancora una volta sembra disegnato, e questi per i detrattori dell'analisi tecnica ragazzi, ok? e ci facciamo una risata, va bene? Allora grazie a tutti, iscrivetevi nei commenti come sempre, noi ci rivediamo nel prossimo video, ciao!